Fissata per il 4 maggio dal GUP Graziella Luparello su richiesta dei PM Pasquale Pacifico e Chiara Benfante, l'udienza preliminare per il 43enne Carmelo Bontempo e altre 10 persone indagate in seguito alle indagini scaturite dal bliz della squadra mobile di Caltanissetta La Bella Vita dello scorso 29 giugno. Imputati insieme a Carmelo Bontempo, considerato dagli investigatori il nuovo reggente di Cosa Nostra a Caltanissetta, sono anche Fabio Meli, Giovanni Puzzanghera, Francesco Zappia, Ernesto Minardi, attualmente tutti detenuti in carcere. Gli altri imputati a piede libero invece sono Mario Ragusa, Giuseppe Polizzi, Giovanni Vinciguerra, Michele Amico, Massimiliano Iorio e Michele Todaro. A loro volta Massimiliano Iorio e Michele Todaro saranno anche chiamati a rispondere del reato di favoreggiamento personale aggravato dal metodo mafioso per avere negato di essere stati vittima di estorsione nell'ambito della stessa vicenda nella duplice veste di persone offese e imputati. Parte offese nel processo sono anche Santo Ferraro, Luigi Anzalone, Eugenio Corsino, Massimiliano Pinzarrone. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso dedita alla commissione di estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti. A Bontempo e Meli vengono contestati diversi casi di estorsione. Le indagini hanno permesso di accertare che la cassa del clan mafioso era foraggiata dallo spaccio di droghe dalla tradizionale attività estorsiva. Qui sono stati sottoposti diversi commercianti del capoluogo e della provincia. Nel blizz erano stati anche arrestati Ivan Villa, Daigoro Iacona, Gino Gueli che nel corso delle indagini preliminari hanno patteggiato la pena.